allora buongiorno ragazzi ciao a tutte come state spero bene allora nuovo video vlog anche stavolta per parlare un po con voi dunque questo video vlog è un servizio dove faccio il mio letto ma anche dove lavo i piatti sempre che riesco a lavare i piatti perché da un momento all'altro potrebbe arrivare mia nonna comunque vabbè farò un pezzo dove lavo i piatti o forse anche un pezzo se riesco dove parlo piano perché c'è gente giù non sia mai che li posso disturbare quindi vedete no comunque niente lavo i piatti un pezzo dove lavo i piatti e un pezzo dove faccio il letto e chiacchierò con voi vediamo quindi nulla buona visione e a dopo grazie Grazie a tutti. 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 Scusate a tutti.